Se i miei uomini peseranno di più dai ventimila che saranno lì soldo, allora noi vinceremo! Un, tre, e... Fermati, prima che ne muoiano altri! E il suo sangue non sarà dimenticato! Ho visto gente che stava morendo e continuava lo stesso a combattere per lui! Ricordate il fatto che mai io mi sia sognato di tradirmi! Non c'è salvezza! Il caffè Federico resterà vivo! Grazie!